Olbia e il suo aeroporto risultano essere in testa alle ricerche dei turisti spagnoli per una vacanza nel 2024. Il dato emerge dall'analisi di Skyscanner, uno dei principali portali mondiali del turismo, sviscerato dal centro studi e comunicazione del Cipnes Gallura. 4 spagnoli su 10 prevedono di spendere più soldi in viaggi nel 2024 rispetto al 2023 e Olbia e il suo aeroporto sono in cima alla lista delle loro preferenze per il nuovo anno. Nell'ultimo anno Olbia ha visto infatti moltiplicare il numero di ricerche sul portale con un tasso di oltre il 340% in più rispetto al 2022. Seguono Osaka in Giappone con un aumento del 328% nelle ricerche online e poi Tokyo con un aumento del 264%. Io personalmente ho accolto questa notizia con grande entusiasmo perché è molto importante. Passato però l'entusiasmo dobbiamo pensare immediatamente a lavorare per far sì che se anche solo un 5% di questo 350% si dovesse trasformare in prenotazione l'esperienza che il turista avrà sia assolutamente positiva. Quindi dovrebbe essere fatto un lavoro di concerto tra operatori ed amministratori locali al fine di sistemare tutte quelle situazioni che ancora purtroppo non vanno bene. Significa però che non dobbiamo guardare solo le cose che funzionano. Dovrebbe essere esattamente il contrario. Dovremmo guardare quelle che funzionano e continuare a sistemare quelle che non funzionano al fine di migliorarci di anno ne anno. Secondo me è un processo che non finirà mai. Però se l'atteggiamento fosse questo sicuramente otterremo dei risultati migliori perché se non capitalizziamo l'interesse per la destinazione e non facciamo tutto quello che è nel nostro potere per far sì che questa esperienza diventi positiva abbiamo perso un'occasione. Skyscanner ha presentato un rapporto sulle tendenze per il 2024 e tra le principali destinazioni per il prossimo anno la prima è appunto Olbia. Con l'aeroporto Olbia Costa Smeralda è scelta, preso da numerosi medi online perché è famosa per la sua atmosfera di mare, le sue spiagge turchesi, la gastronomia tipica e i suoi monumenti. Le presenze di spagnoli a Olbia sono state 23.500 nel 2022 secondo i dati della regione e rappresentano il dodicesimo mercato per Olbia mentre i primi tre posti dall'estero sono occupati da Germania, Francia e Regno Unito.